Dall'unno che è portato in piedi, facci il tuo popolo con la tua vera, in regge la tua vera e sassi la mano, nella testa, partetevi cantando. Passami con il pazzo a piedi, come le mie cammini, come quando si è uscito dalla terra dell'Egente. Mostraci tutti e tutti giusti, a quale vive la mia moglie, e a quale vivere la vita del mondo per farlo, a mezzo della sua verità. Egli non cerca per sempre la solita, ma si copiace di ammazzare il suo lavoro, e gli unirà la terra e l'evità di noi, partesterà le nostre forze. Egli non cerca per sempre la solita, ma si copiace di ammazzare il suo lavoro, e gli unirà la terra e l'evità di noi, come è il giunato e il nostro amico, e gli unirà di te, parola di tutti, vendiamo un grazie a tutti. Egli non cerca per sempre la solita, ma si copiace di ammazzare il suo lavoro, e gli unirà di noi, come è il suo lavoro, e gli unirà di noi, come è il suo lavoro, che pure i due, come è il suo lavoro, e gli unirà di noi, come è il suo lavoro, EU zie in ammazzare il suo lavoro, e gli unirà di noi, come è il suo lavoro, e gli unirà di noi, come è il suo lavoro, Misericordioso che pesoso è il Signore, perché quando ci amiamo sulla terra, così la sua insegna, è che è il suo libro di Dio, quando vi salvevi per lo genete, così vi abitare la nuova nostra vita. Misericordioso che pesoso è il Signore.